Wella ragazzi, ciao a tutte le nicche, bentornati qui su Farming Smulator 22 nella mappa alla coronella come sempre ragazzi vi vado a ricordare che in descrizione se può interessarvi ci trovate i miei canali social c'è anche un link per comprare questo e tanti altri giochi scontati e naturalmente la lista delle mod che uso in questa e nelle altre serie e poi come sempre ragazzi se vi iscrivete al canale ricordatevi di attivare la campanella la campanellina per ricevere una notifica ogni qualvolta carico un nuovo video sul canale allora ragazzi oggi vi porto la coronella anche se diciamo in un certo senso la vorrei in qualche modo concludere visto che ormai viene pochissimo seguita sto cercando un po' di capire eventualmente cosa fare ancora, quanti episodi fare, come farli, se farli perché al momento è la serie che va meno di tutte e ovviamente a me dispiace concluderla ma ovviamente non riesco a star dietro a un mucchio di mappe e cerco ovviamente di portare quello che vedo più vi interesse insomma comunque sia questo gameplay almeno lo volevo fare voglio provare a fare qualche cosa magari ogni tanto nella coronella non lo so, non vi garantisco niente allora di sicuro il problema che ho con tutte le mappe è che di solito non guadagno mai abbastanza soldi per avanzare un po' in fretta e allora sto cercando un po' di risolvere questo problema ma di fatti nella nuova mappa che sto portando nella Griffin ho deciso di partire comprando tanti pannelli solari mi sono anche prefissato di comprare un pannello solare all'anno di gioco e così via allora anche qui tutto sommato potrei magari fare un acquisto di questo genere che porta un po' di soldi in più che possiamo poi investire nel tempo allora ho pensato raga di mettere oggi un hotel un edificio che ci fa guadagnare dei soldi ovviamente questo hotel un po' come i pannelli solari ci fa guadagnare di più verso l'estate e un po' di meno verso l'inverno diciamo che facciamo finta che in estate c'è più gente che va in hotel ok quindi questo hotel ovviamente in descrizione ripeto c'è la lista delle mod questo hotel ovviamente si trova nel mod hub c'è anche per console e costa quasi 600 mila euro però ci fa guadagnare massimo 60 mila euro al mese massimo però non sempre massimo quindi in teoria in quasi un anno ce lo ripaghiamo e poi sono tutti i soldi per noi e allora lo voglio fare costa qua alla fine i soldi bene o male non mi mancano mi devo solo fare un po' di debito dunque costruzione e ovviamente è una specie di generatore quindi dovrei trovarlo qua ecco qua allora praticamente la turbina eolica che costa 750 ci fa fa 67 mila euro lui costa decisamente 200 mila quasi 200 mila euro in meno ci fa guadagnare un poco 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 di meno allora dove lo piazziamo ovviamente qui ci stava bene ma il terreno non solo no e poi c'è un palo nel mezzo vabbè ma io dovrei avere dei terreni di mia proprietà dove ho messo la pizzeria oppure potrei comprare questo terreno che non è male che cos'è questo? ah un luogo per picnic allora o compro questo terreno vicino al 47 e me sa che è la meglio cosa il terreno vicino al 47 dovrebbe andare bene e non dovrebbe neanche costare un mucchio di soldi ah qui comunque abbiamo finito con l'orzo anche se ancora c'è la trebbia da scaricare ancora una volta e insomma naga vediamo vediamo come fare di sicuro in qualsiasi altra serie futura devo risolvere un po' il problema dei soldi perché se no poi ovviamente una serie dopo 50 episodi si un po' stanca e poi escono mappe nuove quasi ogni mese e giustamente c'è la voglia di provarle allora intanto scarichiamo questa e poi vabbè che sta piovendo non possiamo fare nient'altro ho visto che qua già posso entrare da qua allora faccio prima ma per ora magari la lascio direttamente qua così allora andiamo a scaricare tutto e poi compriamo questo edificio dobbiamo anche ricordarci che a ottobre c'è stanno le olive da raccogliere quindi raga non lo so vediamo dove arriviamo con questa serie non lo so raga perché purtroppo a molti non sta piacendo più e per me è un peccato ovviamente vedere che c'è poca che c'è meno gente insomma comunque per quanto riguarda le mie mod ancora purtroppo niente ancora giants non fa sapere niente per ora la paia la metto tutta nel magazzino poi vediamo che fare perché qui il compost mi fa perdere mezza giornata ok allora ci andiamo a mettere qua così lui svuota perfetto qua andiamo a scaricare quindi abbiamo detto terreno vicino al 47 ho detto bene questo mi costa 58 mila euro orca miseria questo è pure carissimo la pizzeria dove cavolo è abbiamo la pizzeria no? sì ecco qua però oddio la verità c'è poi vai che è sempre lì vabbè compra vai compriamo ok mi pare che i soldi mo' non ci bastano ok così avremo una buona entrata mensilmente in più anche perché mi pare che qui sì bene abbiamo dei pannelli solari quelli che si trovavano con la mappa abbiamo quelli allora campo 47 va bene eccolo qua direi che di spazio ce n'è in abbondanza non c'è un vero e proprio ingresso quindi potrei metterlo un po' dove mi pare piace potrei anche metterlo qua penso che danni non ne facciamo speriamo va bene ok ok qui rimane spazio libero volendo per farci altro va bene abbiamo il nostro hotel ragazzi ah c'è pure scritto hotel BR forse di notte si illumina pure questa scritta chi lo sa qualche sedia qualche fiore qua e là ok raga abbiamo fatto questo investimento che ci dà una mano economicamente ovviamente allora continuiamo qui a scaricare la vena che stiamo a fare ovviamente farina da vena e me sa che non c'è altro da fare forse possiamo mettere il gioco veloce oh non mi pare che c'è altro da fare fa vedere ok 23 in crescita 19 in crescita tutto fertilizzato andiamo a dormire va melon manca l'acqua vabbè quella si autodistribuisce a proposito di acqua a proposito di acqua raga ho messo un altro pozzo ho comprato ne ho messo un altro perché l'acqua non c'è basta mai avanti ma ho passato sta giornata che mi sono rotto di sta pioggia così arrivano un bel po' di soldi non so quanti mamma mia quante cose qua lattuga cut master ma perché manca sembra l'acqua e dire che c'ho tre pozzi ma io non sto a capire ok si abbiamo fatto proprio 60.000 euro ah no tutto risolto va bene ok si abbiamo fatto quei 60.000 euro ovviamente un po' da tutto non porta proprio 60 e di fatti 60.000 euro è il massimo non è garantito non lo è proprio oggi che è giornata di semina o vado avanti col gioco ma no forse oggi è giornata di raccolta invece è pronto non è pronto mi pare proprio che non c'è niente di pronto pronto mi pare proprio che non abbiamo nulla quasi il 25 che è pronto paper da vendere ma la carta non l'abbiamo messa già in auto vendita no e la possiamo vendere che ne abbiamo pure oh bello finalmente ma arriva un avviso price info questa ma questa cosa nuova prima non funzionava non so come mo funziona paper factory buh mo funziona figo non ha mai funzionato allora vendiamo sta carta sono arrivati i soldi belli dai che sto debito me lo vado a togliere ok qui dentro finisco di scaricare la vena ma come ma come dopo tutto sto tempo ancora non mi scarica ma poi perché sono venuto qua quando potevo mandare il tutto automaticamente ah perché i cavalli veri i cavalli ma a proposito ma scusa perché farina avena non fa come mai boh forse non ne stiamo utilizzando forse la farina al momento porca miseria mi stai a dire che ho le cose ferme neanche il pane no il pane lo stiamo a fare allora cioè cioè perché la farina non arriva qua certe volte le cose non funzionano cioè qui c'è bisogno di farina ma la farina non arriva boh distribuiamo acqua la pigliamo altro compost allora andiamo che devo fare devo dormire o se no facciamo passare il tempo così vediamo se sta farina poco per volta si distribuisce no completamente sta farina non arriva proprio non esce come mai o è lentissimo a produrla più che altro ah è che è lenta a produrla mi sa sarà che la farina è lentissima a produrla ecco cos'è che non va probabilmente è quello il problema ok qua siamo pieni di compost qua con la paia abbiamo quasi fatto ovviamente se c'è un trattore libero in farm mi serve per cominciare ad arare acqua completamente pieno tu vai al deposito deposito compost direi che qua abbiamo oramai finito con la paia si occuperà a lui di lavorare questi terreni di arare se ne può occupare pure lui quindi sono arrivati altri soldi intanto bene ma non è che arrivano i soldi non è che arrivano meglio se metto il gioco veloce invece che dormire chi lo sa magari se metto il gioco veloce arrivano più soldi non lo so metti che comunque mi pare che questa giornata la dobbiamo fa passare e allora come la passare vediamo i soldi come aumentano 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 però mo non aumentano più di sera aumentano solo come i pannelli solari aumentano solo durante il giorno come i pannelli solari compost di nuovo pieno allora restituiamo debito me lo tolgo tutto avanti fanno passare sta nottata e difatti la maggior parte dei soldi arrivano quando c'è il sole quindi quindi in pratica anche l'hotel si comporta come un pannello solare produce più di giorno che di notte oh cavolo manca il cibo alle galline te pareva allora te scaricami la vena sicuramente poca vabbè vabbè famo così va portiamo ai cavalli che è meglio va qui continuiamo a dare acqua acqua qui c'è da scaricare c'è sempre da fare un botto di cose eh allora il debito ce lo siamo tolti abbiamo recuperato un 200.000 euro più o meno dei 600 che abbiamo speso più o meno però almeno muo arrivano sempre questi soldi e quindi ci daranno una mano a proposito l'usato questo ce l'abbiamo già cavolo qui c'era un altro ma ce l'abbiamo già questo non so che ci devo fare trattore ma non ci faccio niente ahimè allora large chicken coop ahimè manca il cibo difatti mi conviene controllare gli animali ho fatto passare due oddio malissimo chicken chicken finito tutto ok porca miseria gli animali allora già ma piove pure oggi come nella realtà ormai anche in estate fa tempo temporali allora mi serve 30.000 facciamo 15-15 frumento e mi pare che pigliano solo quello o mi sbaglio credo ok poi quella è di nuovo piena di compost ne abbiamo preso basta la famo 16.000 16.000 ok buona e d'altronde sappiamo bene che le galline fanno fa soldi quindi abbiamo finito i minerals quelli li devo anche comprare compost master mo se non metto anche i minerali così qua ancora si lamenta la gallina ecco allora mo andiamo a prendere il compost se no non facciamo l'altro ma ad agosto si vende qualcosa dovrò controllare gli avvisi non arrivano mai in tempo ok no non qua mi serve 3000 3000 di animal food come cavolo si chiama ok allora scarichiamo animal food oh il trigger capacità no non muo dire no e da dove l'ha preso accidenti ma non pensavo che era pensavo 15 15 perché 20.000 boh ce n'era già ancora un bel po vabbè scarichiamo tutto qua allora qua di sicuro manca ok un altro pochino di animal food per i cavalli e è buona ok devo comprare assolutamente questo minerals aspetta allora pallet minerals 1 2 3 in teoria l'ha già preso grazie ovviamente alla store delivery vediamo un po i cavalli si ok beh veramente c'è non è che non ce n'è manca veramente mancano manca più che altro fieno e altro quasi quasi compro una balla veloce veloce se fa prima una piccola balla una di quelle quant'è questa 4 e 5 l'ha già presa ottimo se fa prima perché avanti e indietro ci vuole tempo ok le proteine dovrebbero arrivare o è meglio di così tanto alla fine va bene pure che l'ho pagata fa niente non è che l'ho pagata chissà quanto allora animali basta 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 porca miseria ho fatto il pieno lo sapevo che la miseria ho fatto il pieno è troppo veloce a scaricare e vabbè niente la petta può stare qua oramai perché giustamente ho fatto il pieno ma non possiamo scaricare vabbè l'importante è che gli animali almeno hanno da mangiare meglio di niente a proposito di animali e a proposito più che altro di uova quante ne abbiamo ciò sta porca miseria 131 pallet pane ma che 131 pallet quando è che mi fai vendere ste uova eh no purtroppo non si vendono mo mille euro di perdita ciò e anche il pane non si vende mo non mi avvisa mai mannaggia lui prezzo massimo non mi avvisa mai raga pazzesco guarda va bene raga io direi che concludo il gameplay perché il tempo vola il tempo vola allora che dirvi raga quindi come vi ho detto prima non lo so io se riesco magari ve la porto un pochino la coronella però cioè non so per quanto non so se darmi ancora due tre obiettivi ma comunque non voglio fare ancora molti gameplay perché vabbè colpa mia che probabilmente vado un po' troppo lento di fatti mo dalle prossime serie cerco di spingere più in fretta l'acceleratore negli acquisti c'è nel senso nei guadagni più che negli acquisti in modo che possiamo fare più acquisti e e non faccio durare le serie cento episodi che ovviamente poi stancano vabbè comunque per ora ho fatto questo spero vi sia riusciuto di gameplay e niente che dirvi raga allora ci becchiamo presto in un prossimo gameplay vi saluto ciao 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 Grazie a tutti.